A seguito dei primi interventi di pulizia e manutenzioni effettuati da Enel Green Power sul tratto interessato del canale Albani, con lavori di ripristino delle micro perdite sugli argini, la manutenzione del verde con il taglio degli alberi pericolanti e la pulizia del fondale del canale per un costo complessivo di 70.000 euro, la situazione in cui oggi riversa il tratto dopo la messa in secca non è delle migliori. Infatti la ditta incaricata insieme al Comune di Fano hanno constatato che il lato sinistro di Viale Kennedy necessita di un intervento di manutenzione straordinario in quanto non è presente l'argine in calcestruzzo come nel lato opposto. Infatti c'è un'erosione sostanzialmente di alcune decine di metri oltre a un ammaloramento abbastanza vistoso del ponticello che collega l'area del campo studentesco alla zona del Pincio. Allora si è concordato con Enel Green Power di procedere a degli interventi straordinari, quindi ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivati per garantire la piena messa in sicurezza del tratto di Viale Kennedy. Per garantire la piena sicurezza del tratto in questione il sindaco ha disposto un'ordinanza sindacale risalente alla 9 febbraio scorso indicando una serie di interventi. Il canale Albani pur essendo classificato come canale industriale perché in funzione della produzione idroelettrica è comunque sottoposto a una serie di vincoli paesaggistici per cui è stato necessario ovviamente procedere alla richiesta di una serie di autorizzazioni per poter fare alcuni interventi che sono in questo caso strutturali. Infatti a partire dal lunedì 25 marzo inizierà un nuovo cantiere lungo Viale Kennedy che vedrà per l'appunto la realizzazione sulla sinistra idraulica di opere in calcestruzzo come sono attualmente presenti da alcuni anni sulla destra idraulica. Oltre a questa questione sarà previsto anche un intervento di ripristino del ponte che collega la zona del campus con quella del Pincio per una durata di circa 30 giorni ed un costo da come ci spiega l'assessore di 100.000 euro complessivi. Ma oltre alle condizioni in cui riversa il ponte a destare le preoccupazioni dei cittadini sono le varie razze di anatidi presenti lungo il canale. Che ne devo pensare? Che uno schifo? Più schifo di così? Non lo so. E mica un canale si lascia così? Se questa fosse una proprietà privata, mia, sua o di lui, dell'operatore, a quest'ora ci avrebbero fatto una sanzione fuori di testa. Io lo ritengo scandaloso perché questo è un biglietto da visita di Fano. Qua ci si fermava sempre per guardare le papere, i cigni. È possibile vedere ancora pezzi di rami, alberi, fanghiglia, detriti non portati via? Quanto fanno questi? Quanto finiscono qui l'ora? Che schifo! E questo è il bravo, il nostro sindaco, è il bravenga. E me va a piantare i cavi, va là.